Marco Mongerra, allenatore della Studio 55 ATA Marco, peccato perché per parte dei 3 set ve la siete anche giocata siete stati lì con Padova a seconda in classifica poi è mancato probabilmente qualcosa dal ventesimo punto in poi loro sono state un po' più ciniche, un po' più concrete guarda, non sono molto d'accordo perché per esempio in questo ultimo set hanno fatto dei punti con delle porcherie non sono mai state sanzionate, noi dovevamo essere ligi e adesso in questo momento proprio quest'ultimo punto è stato vergognoso quando sei sul 23-24 così non è bello noi abbiamo giocato una bellissima partita loro sono una squadra sicuramente fortissima, molto fisica però non puoi giocare contro l'arbitro e contro la squadra, contro l'arbitro, contro tutti non esiste al mondo sei arrabbiato oggi proprio? sono veramente incazzato perché... più che arrabbiato perché... allora, quando vanno tutte nella stessa direzione no? e ti sorridono dallo sgabellone per me è... almeno stai zitto, non sorridere, fai il tuo arbitraggio e basta è vero che ha sbagliato, no? arrabbiarsi con gli arbitri perché... però quando sei sempre lì, 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 lì e nel momento giusto succede sempre qualcosa che non va questo non è bello parlando soltanto del gioco della tua squadra, cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto di cosa ha fatto vedere in campo la tua squadra? beh, guarda, hanno ricevuto secondo me molto bene abbiamo anche attaccato bene è mancato in qualche momento in qualche momento è mancata la persona giusta che mettesse giù il pallone però secondo me abbiamo fatto un'ottima partita abbiamo fatto, abbiamo sbagliato poco in battuta abbiamo fatto del male secondo me a muro ci siamo stati chiaramente noi rispetto a questa squadra qua siamo molto meno fisici non siamo superiori per vincere con questa squadra qua tutto deve andare nel modo giusto e oggi qualcosa sicuramente non è andato nel modo giusto a livello di gioco comunque la riconferma oltre alle partite che avete fatto prima di Pasqua che state bene a livello di gioco, giocate bene, state bene anche a livello fisico a questo punto mancano poche partite per finire questo ciclo di scontri contro le prime della classe poi arriverà un finale di stagione un po' più tranquillo possiamo dire che ormai la tavola è apparecchiata per la salvezza? beh, guarda, non ho mai avuto dubbi sul discorso salvecchio e ritengo che noi potremmo raggiungerla insomma, facciamo le corna però ritengo che potremmo raggiungerla una cosa è certa che durante tutto il campionato abbiamo sempre raccolto molto meno di quello che mi ritavamo anche nelle ultime, in queste due ultime partite abbiamo giocato contro Millennium e contro Padova che sono rispettivamente prima e seconda alla fine è venuto fuori un 3-1 e un 3-0 che secondo me non ci sta perché abbiamo fatto vedere una bella pallavolo siamo stati spesso davanti perciò a qualche punto bisognava portarlo a casa era doveroso portarlo a casa non è andata così e proveremo a far punti nel prossimo partito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti